Beffa servita i tempi duri per il Lanciano che perde ad Alba Adriatica e osserva ora dal basso la capolista Castelnuovo che viaggia a ritmi spediti. Rossoneri raggiunti proprio dai rossoverdi al secondo posto della graduatoria e che ora si preparano ad affrontare un giro di boa ricco di scontri diretti. L'obiettivo? Quello di rialzare la testa. L'avvio di Meccio è tutto di marca ospite ma l'Alba Adriatica colpisce al primo affondo con il colpo di testa di Petra Rulo che da distanza ravvecinata mette in sacco il cross di Pantoni da destra. Partita in salita, Frentani che però non mollano la presa provano a creare più di un'occasione da rete, la partita resta aperta. Ripresa che si apre sotto la pioggia abbattente ed ecco il Lanciano che pareggia i Conti con Verna il migliore tra i suoi con un destro da 25 metri che piega le mani a Petrini. Uno a uno tentativi pericolosi per i lancianesi che si illudono ma vengono beffati però in pieno recupero. Punizione dal limite di foglia sporcata da deviazione della barriera che si infrange sul palo. Respinta che vede Miani insaccare di testa a porta sguarnita. Sconfitta pesantissima che rintuzza le ambizioni rossonere in piena bagarre alle spalle della capolista ci sarà da sudare nel prossimo futuro per non assistere alle glorie altrui. Mister Di Pasquale. Lanciano ha fatto la partita per gran parte della gara senza subire un tiro in porta. Gli unici due tiri in porta sono stati il colpo di testa e la punizione finita sul palo. Nessun altro tiro contro una squadra che ha giocato solo sul lungo. Mister Di Pasquale si aspetta un mercato del lanciano da protagonista. Da protagonista l'importante è puntellare la squadra soprattutto nei fuori quota. Adesso questo è il nostro problema maggiore. Poi dobbiamo rinfoltire su alcuni reparti però il problema grosso sui fuori quota adesso. Noi avevamo preparato la partita in una determinata maniera. Sapevamo che forse sul palleggio potevamo soffrire anche in virtù delle caratteristiche della squadra avversaria e quelle nostre. La squadra dal mio punto di vista veramente è in fase di crescita notevole e oggi l'ha dimostrato. Nel primo tempo credo all'inizio qualcosina ma dopo tutte le volte che abbiamo riconquistato palla in avanti aggredivamo. Oltre al gol che come ha detto il tuo collega secondo me è stato un gol veramente di pregevole fattura abbiamo avuto anche altre occasioni per poter concretizzare il risultato.